ciao ragazzi e bentornati voi che siete super tecnicamente fantastici non finirò mai di dirlo non mi stancherò mai di dirlo a voi come non mi stanco di salutare l'utente più veloce dello scorso video bunga bunga ciao sei stato il più veloce saluta te che arriva per primo in questo video solito super saluto nel prossimo video simpatico la live a breve arriva ragazzi forse questa settimana non riesco ma al massimo tra lunedì e martedì quindi tra domani e martedì arriva la live sempre importante con voi in diretta argomenti caldi l'avevo detto questo primo video di una serie di argomenti veramente bollenti da piastra a induzione adesso facciamo una battuta però veramente interessanti like iscrizioni sempre graditi con la campanellina per ricevere sempre in anteprima tutte le notifiche tutti i canali social per raggiungermi nel link in descrizione dove io rispondo sempre tutti voi con immenso piacere argomenti interessanti wind ci prova dopo h3g parliamo anche finalmente di una tariffa di wind e tanto che non ne parlavo wind fire 50 era 102 nuove tariffe che lancia wind e poi ragazzi ilia di nirlanda lancia l'operatore per la prima volta un operatore virtuale proprio gomo un operatore virtuale di ilia con una tariffa supersonica non è in italia ma voglio annunciare i movimenti di ilia perché questo fa presagire che magari anche in italia potrebbe ulteriormente con l'inizio dell'anno oltre al discorso di internet con il router compreso ma qua in italia dovrebbe arrivare qualcosa di più corposo oltre a quel discorso delle tariffe nuove anche gomo questo operatore virtuale che in irlanda viene lanciato con una tariffa mai vista prima dopo vi dico i contenuti giusto per curiosità per farvi capire come si muove a 360 gradi ilia di in tutto il mondo non è tutta europa quindi non solo qua allora parliamo di wind è occasione sprecata top flop ne parliamo subito io direi che siamo le solite minestre nel senso due tariffe potenzialmente molto interessanti poi rovinate da vari fattori ve lo dico già prima però analizziamo insieme allora la wind fire 50 sono tariffe abbastanza in linea con quello che oggi è il mercato quell'altra è più più aggressiva secondo me interessante 6 99 al mese 50 giga 200 sms minuti illimitati la 100 100 giga sotto 4g senza limiti di bandi utilizzabili minuti limitati 200 sms c'è un po di confusione sono attivabili negozi online a detta di tanti alcuni dicono che sono tutte e due con addebito su conto corrente carta di credito invece tanti dicono no la 50 giga attivabile solo su credito residuo mentre quella da 100 la differenza che il prezzo è uguale ma c'è l'attivazione solo su carta di credito quindi bisogna poi informarsi bene io sono riuscito a trarre le seguenti conclusioni la 50 attivabile su credito residuo quella da 100 giga sono su carta di credito e addebito in conto che non mi piace per niente mi sa di vincolo allora la prima cosa da dire due tariffe semplici bene interessanti quello soprattutto quella da 100 giga ma anche quella da 50 il prezzo sui 7 euro è molto competitivo sarebbero belli se fossero attivabili per sempre per tutti anche come nuovo numero però purtroppo anche qua dobbiamo andare a vedere il primo step attivabili solo da clienti provenienti da iliad iliad su tutti che lo puoi fare anche online quindi tutti contro uno come sempre e poi da alcuni operatori virtuali quindi niente solo da operatori virtuali o da iliad stesso discorso di sempre non per tutti non per nuovi numeri solo per mirare a fare la concorrenza a qualcuno e solo per alcuni clienti quindi anche qua vai in negozio a te sì te no perché tu sei di serie A tu sei di serie B quindi discriminazione non c'è innovazione c'è discriminazione di scelta sulla clientela ma il contento non c'è la mentalità giusta la mentalità innovativa nuova per tutti se il cliente win te la faccio anche a te perché solo ad alcuni poi la gente se ne va a fare portabilità normale detto questo ulteriore cosa che non mi piace è la carta di credito e il conto corrente su quella da 100 scuola da 50 pare non esserci anche lì se non non hai la disponibilità del credito residuo ma di per forza abbinare il conto la carta cosa da meno a me personalmente non piacciono e poi anche la storia dei 15 euro di attivazione in meno che devi ridarli se la sim non è attiva 24 mesi io la sim la tengo attiva quanto voglio se la voglio tenere attiva 10 mesi non ti devo dare 15 euro se sono presenti sul credito residuo che poi guarda caso tu li dimentichi li te li prendono vabbè al di là di quelli comunque ti arriveranno sempre a cercare se tu fai la ricaricati o non ricarichi più la sim o ti piani 15 euro questo è poco ma sicuro ma perché devo avere un obbligo un vincolo dei 24 mesi anche se sul credito residuo anche di 15 euro non ci dovrebbe essere quindi altra cosa solita che dà fastidio come quella della provenienza dell'operatore come le carte di credito nel conto quindi due tariffe potenzialmente molto interessanti molto soprattutto quella da 100 a un prezzo di 7 euro veramente aggressivo ma castrate castrate non innovative e discriminatorie per discriminazione intendo cioè tu sì tu no tu sì tu no no cliente wind la fai basta almeno sui clienti wind già devi vedere che devi provenire per forza da ilio da qualche operatore particolare poi ti devono pure selezionare quindi a detta di tanti e solo per alcuni clienti poi voi provate andare a vedere se siete tra i fortunati se la fanno a tutti però le mie informazioni dicono questo quindi due potenziali tariffe da 9 diventano 6 due tariffe qualunque da 6 neanche consigliate perché poi alla fine a parte che te la devono attivare se sei fortunato poi ai 24 mesi dei 15 euro poi devi metterci anche perché mentre serve quella da 100 io il conto corrente la carta di credito non te la do se poi la fanno anche su credito residuo quella da 100 e se sapete qualcosa in più mettetelo nei commenti a me non pare che sia così comunque non mi interessa di avere il vincolo di 24 mesi non è giusto che non sia per sempre e che non sia di provenienza l'attivazione nuovo numero quindi comunque c'è sempre qualcosa di non chiaro no di macchinose difficoltoso di contorto non di fluido e trasparente fino al cento per cento e quindi non mi convincono cioè sono tutte operazioni operator attacca attacco con i due operatori lì oppure su solo per clienti selezionati che provengono da quegli operatori e poi ti metto in 15 euro in più dell'attivazione 24 mesi la carta di credito ma basta 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 sono tutte uguali e tutte così comunque ormai quando escono io le voglio sono mi chiedete di parlare spesso di tutte le tariffe di tutti gli operatori io per informazione più chiara e precisa parla anche di questa parliamo di questo operatore virtuale gomo che in irlanda si appresta lanciare il è il primo mvno di iliad cosa vuol dire un po come china per team cosa vogliamo dire passiamo subito alla tariffa una tariffa per i giovani no e poi attivabile per sempre per tutti però è indirizzata a un pubblico giovane quindi anch'io un po il giovane avanzato però diciamo è un po per tutti però indicata più per un pubblico entro i 55 anni ha detto di iliad ecco che non per uno di 80 però la può tranquillamente attivare anche quello di 80 anche di 120 che non ci sono problemi però è una tariffa fresca giovane unico prezzo per sempre con questo operatore virtuale gomo che in irlanda viene lanciato tramite rete iliad beh pensate 80 giga per sempre per tutti anche come nuova attivazione 9 99 al mese minuti illimitati non 200 sms sms illimitati minuti illimitati 80 giga senza limiti di banda sotto 4g e tutti i servizi gratuiti e 10 giga in roaming cioè veramente 10 giga anche il roaming europeo quindi veramente una tariffa top a 9 e 99 voi dite sì ma tu mi hai detto che c'è quella di vedete la differenza cioè 7 euro contro 9 e 2 euro e 90 in più il wind però non c'è il vincolo dei 24 mesi del credito non c'è la provenienza dell'operatore faccio un nuovo numero vengo da dove voglio o gli sms illimitati o 10 giga all'est non ci siamo piuttosto metti due euro in più ma fai una tariffa vera questa è una tariffa vera ed è quella che secondo me è molto vicino a diventare la tariffa per sempre in italia cioè 80 giga a 9 99 o la nuova flash o la nuova fissa la flash potrebbe essere quella da 100 e quella da 80 quella diciamo nuova che deve arrivare quindi questa tariffa da 9 99 mi sa molto anche l'italiano non con l'operatore virtuale parlo con il liad direttamente fisico quindi che dire una tariffa eccellente sotto tutti i punti di vista secondo me prezzo e rapporto di della qualità del contenuto molto interessante soprattutto non vincolata per sempre con tutti i servizi peccato che in italia non abbiamo ancora una tariffa così che da un operatore così innovativo e libero come il liad che non ci senza fronzoli con trasparenza ci dà un servizio chiaro speriamo di vederla presto in italia anche questo gomo che sia un operatore virtuale che possa arrivare anche qua da noi perché adesso è presto è chiaro che è un test magari dura un anno un mese non lo so ma per sempre mare poi verrà a espandersi in tutti i paesi europei al momento solamente in irlanda e quindi non ho notizie comunque contrarie che possa arrivare anche da noi assolutamente quindi se me lo chiedete vi dico no assolutamente appena stato lanciato in irlanda è un mercato diverso però non si sa mai se continuano andare bene le cose magari un domani potremmo avere anche qua l'operatore virtuale il chiena lo muove di turno di iliad quando avrà la propria rete ovviamente quindi una tariffa interessante una bella novità vuol dire che il si muove anche in questo senso una 9,99 così io spero che sia la prossima tariffa definitiva per quanto riguarda noi ragazzi ci vediamo nei prossimi video abbiamo parlato di wind che ha le idee giuste ma le applica male abbiamo parlato del nuovo operatore virtuale di illand che ha le idee giuste le applica bene ci vediamo alle prossime su un canale paolo uguala con me ciao e grazie come sempre